Fuoco e fiamme nel primissimo pomeriggio di oggi sulla strada statale 115 all'altezza del Bivio per Contrada Crocca. Poco prima delle 15, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di agregento, si sono scontrate due autobotti contenenti entrambi benzina. A quanto pare uno dei due mezzi pesanti non si è fermato allo stop, oppure all'altro mezzo che era proprio sulla 115 in direzione Villaggio Mosè, sono d'improvviso esplose le ruote provocando il panico tra i passanti. A causa dell'impatto un grosso foro si è creato nel mezzo Kuwait e diversi litri di liquido infiammabile si sono sparsi per la carreggiata causando anche l'incendio di alcune starpaglie vicino il luogo dell'incidente. L'immediato intervento dei vigili del fuoco di agregento giunti sul posto con diversi mezzi ha fatto sì che non succedesse il peggio. I pompieri hanno infatti immediatamente cercato di abbassare la temperatura delle due autobotti per evitare che scoppiassero. Uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di agregento con un'ambulanza del 118. Sul posto è anche atterrato un elisoccorso, ma secondo la prima analisi dei sanitari non era necessario per il ferito il trasporto in un'altra struttura ospedaliera. La strada statale 115 si è ritrovata per diverse ore in condizioni pessime. Oli e benzina sparsi ovunque. Il traffico è andato in tilt. Sull'asfalto sono stati inoltre disseminati pezzi appartenenti al mezzo pesante al quale sono esplose le gomme. Secondo i tecnici dell'ANAS la strada non potrà essere riaperta prima di stanotte. Ed un altro incidente stradale avvenuto pochissimi minuti dopo, sempre sulla strada statale 115 a circa 100 metri dal Bivio per Contrata Crocca in direzione Palma di Montechiaro. Questa volta a scontrarsi sono state due auto, una Fiat Stilo ed una Volkswagen Passat. Causa dell'incidente è stato il traffico venutosi a creare per via del primo incidente. Una Fiat Stilo con a bordo tre giovani ragazzi di Palma di Montechiaro che proveniva da quella direzione si è ritrovata improvvisamente senza nessuna segnalazione la carreggiata occupata dalle auto in sosta per via dell'incidente e non ha fatto in tempo ad arrestare la sua corsa andando a scontrarsi con la Volkswagen Passat, a bordo della quale c'era anche un anziano signore per il quale è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza.